Non ci tieni perché non la lascia. Ma come parli bene, mamma mia. No, non ho il coraggio perché lei è debole. Che belle parole. Bello, pedala. Perché? Perché sono qui con me in montagna russa. E se non ti ha coraggio, ti faccio fuggiare. Va boiare. Eh, salve. Buonasera. Ti guardi uno, si mette a far morire che guardi uno che non ci hanno cucinato e da me vanno in mare. Come arriva? Sì, lo sappiamo. Lo sappiamo. Questa è una televisione. Sì. E sta avertano per le 36 casane. Sì. Allora sono venuto a dire una cosa a Pupatella da Rione e Bellincio. A Pupatella? Sì. Rione e Bellincio. Pupatella! Purnite di me pure bene. E schiattò. Eh, vabbè. Ma se si chiude il scendere in doverone, che gli anni sembra miseria. Bella, e pure quando tengo il pezzo in fronte, che sempre vi vorrei. Pizzò prima parli a me, parli a te. Perché? Perché tu fai per esempio che non tieni l'occipeciano. E poi ricordate una cosa. Che sotto la lingua ci sto meglio. Che le che chiamo, che le vengono. Ma che dici? Ma che chiamo e male di vengono. Ma che dici? Gli film indifferente è meglio. Bene, bene mi chiamo e bene mi vengono. È bello, ma voglio capire meglio. Ma io non so, ma non so. Scusa. Grazie.